Vi portiamo dietro le quinte di un momento molto personale e toccante della vita di Chiara Ferragni. Se siete pronti per un viaggio emotivo, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessun aggiornamento. Ma ora, immergiamoci nella storia. Chiara Ferragni, icona di stile e influencer di fama mondiale, ci ha recentemente concesso uno sguardo raro e intimo nella sua vita attraverso le sue storie di Instagram. Tornata in Italia dopo un viaggio di lavoro di cinque giorni nella frenetica New York, Chiara ha deciso di trascorrere un tranquillo pomeriggio al Parco Sempione di Milano con i suoi amati figli. Tuttavia, dietro le gioiose immagini al Luna Park, si celava un turbamento più profondo. Dopo la spensieratezza del parco, Chiara si è concessa un momento di riflessione con i suoi fan, rispondendo alle loro domande in diretta. Con una sincerità disarmante, ha rivelato di attraversare un periodo di M**RDA, esprimendo le sue emozioni con voce tremolante e occhi lucidi di lacrime. Un momento di vulnerabilità che ha toccato il cuore di molti. Ma cosa ha portato Chiara a questo punto di rottura emotiva? Prima della sua partenza per New York, aveva accennato a un viaggio d'affari. Sul suo ritorno, ha condiviso di aver partecipato a incontri lavorativi che sono andati molto bene, definendoli un percorso nuovo e qualcosa che non ha mai fatto prima. Eppure, nonostante il successo professionale, Chiara non ha nascosto il peso di un dolore personale che ha scelto di non condividere pubblicamente. In un mondo dove le apparenze sono tutto, il coraggio di Chiara dimostrarsi vulnerabile ci ricorda che è umano non stare sempre bene. Basta fingere che tutto vada sempre bene, ha dichiarato, aprendo una finestra sulla sua umanità. Questo momento di sincerità ci invita a riflettere sull'importanza del sostegno e della comprensione. E voi, cosa ne pensate? Vi invitiamo a condividere le vostre opinioni nei commenti qui sotto e, se vi è piaciuto il video, a lasciare un like e a iscrivervi al nostro canale.